anche qua scusami eh tira il davanti fino al vasetto e poi la chiudi di colpo dietro ti va a finire e si va non ti prende dentro questa non te la so spiegare 15 del vasetto rotto e anche 30 attenzione che arriva è una bella idea però oh l'hai tirata su ma aspetti che la moto ti vada su figa l'hai tirata su bene però questo è sempre così eh il problema te lo fa anche quando sei in discesa giù in qualche posto come fai te vabbè io almeno faccio la finta invece te li ruzzi giù cazzo allora per riuscire a farla bene questa non deve non deve aver giù i vasetti se non hai giù i vasetti forse la fai perché andiamo giù a largare no eh ma non puoi più di quel tanto eh ma qua ci puoi arrivare però eh se tu arrivi qua eh magari ti appoggi qua se togli i vasetti forse la fai vedrai che girano tutti adesso no perché tu lo sfrutti no vediamo vediamo amore devi stare calmo devi stare calmo zio sto tirato via il vasetto allargati un po' di più eh sembra ma comunque dopo devi chiuderla eh scusami quando vieni giù devi venire qua e ti ciula anche dopo eh sì bravo e poi la chiudi via così qua non c'è più l'ostacolo però ti frega anche quello la eh perché ti frega anche la decisina eh dopo di là vediamo dai facci sognare ancora ma parti troppo lento oh non pensare al primo pensa di fare il secondo non pensare al primo 30 qua dici no qua il Michele mi butta giù no no mi butta giù se stavo lì non ci sogniamo Michele eh sennò non vedi a metà giù oh la stai fai ma devi arzare o la moto mica spostare il sasso non vuole spostare il sasso dai io vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù vieni 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 dai lele pace vieni amore eh l kingdom la vieni vieni allora si vieni se cattolo dottima penso sul secondo non al primo è Come? Come? Fanculo! No, così! Fai il rumore del Garelli di una volta! Il rumore del Garelli! Vedi, Garelli, Benelli, poi lui ha già fatto un passo migliorato! Bravo, bravo, bravo! Dai! Eh, basta! Ti va giù davanti dopo, ti va giù davanti! Allora, tu perché la tiri dopo e quindi la tiri dentro, loro non riescono! Quindi se tu gliela fai allargare tanto qua, poi li va giù davanti nella cosa, li curano! Invece devi allargarti lì, ma dopo devi chiuderla! Aspetta, oh! Uno alla volta, eh! Vai, Johnny! Così! 30! 30! 15! 15 perché hai rotto il coso e 15 perché sei spenta! Ma mi sa che... 15 euro, eh! 15 euro! Il basetto è 15 euro! Esatto! Mi sa che è bruciata la... Proprio se è spenta di... No, sai che cosa? Se... Un mezzo di un sasso, te! Sì, ma quello che li ho messo prima! Quello di prima andava bene! Quello va bene! Quello va bene! Quello! Quello è quello che si parla... Eh, quello che si era... Mi sarà passato... Che... Che...